buongiorno ben ritrovati sono le sette del mattino di sabato 30 marzo benvenuti all'edicola i segreti di sandogan così titola questa mattina la repubblica titolo molto simile lo fa anche il corriere della sera si pente il capo dei casalesi mentre il giornale ne parla e invece dice forse ci aspettiamo troppo da quest'uomo che è rimasto in carcere per 26 anni tutto sommato avrà poco da dire iniziamo così questa mattina perché è una notizia importante ovviamente sempre che per l'appunto abbiano ragione esperti magistrati che si aspettano molto da questo pentimento vedremo che invece ci sono anche voci discordanti ma intanto la cosa che dobbiamo fare è cominciare dal corriere della sera e andare che fra l'altro ospita un articolo di roberto saviano che più di tutti ha raccontato per l'appunto il clan dei casalesi chi si è letto il libro gomorra sa di che cosa stiamo parlando vi dicevo iniziamo sul corriere della sera perché magari non tutti ricordano la figura di questo criminale che ormai è da 26 anni in carcere e quindi ci affidiamo alla cronaca di fulvio buffi che così racconta venti giorni fa forse qualcuno di più comunque meno di un mese dal carcere di parma dove sta scontando 14 ergastoli in regime di 41 bis francesco schiavone chiede di parlare con un magistrato uno in particolare il capo della direzione nazionale antimafia giovanni melillo sarà a lui quando poi lo incontrerà che annuncerà la decisione di collaborare con la giustizia da boss più rappresentativo dei clan casalesi ha pentito a 70 anni di età e dopo 26 di detenzione e con una famiglia che per metà la moglie e due figli ha già imboccato il percorso dove lui ora comincia a muovere i primi passi la storia della camorra casalese o per meglio dire della mafia casalese poi vedremo questo dettaglio sulla mafiosità importante vista la vicinanza con le famiglie corleonesi e con i nuvoletti storici alleati napoletani di cosa nostra la scrittra fra il 1998 e il 2010 il processo spartacus con oltre 100 imputati e 16 verdetti di fine pena mai confermati in cassazione ma francesco schiavone il boss soprannominato sandokan può aggiungere capitoli o note di appendice e insomma poi ci sono la descrizione di quella che era stata la carriera criminale di questa persona e ancora un'intervista che viene fatta sempre sul Corriere della Sera all'ex magistrato Roberti che insieme a Federico Caffiello de Rao era in Campania proprio in quegli anni e dice potrebbe condurre a un mondo di grandi capitali ma sarebbe il primo a farlo non è il primo pentito ma insomma dice in questa intervista a Franco Roberti che in realtà finora quelli che si sono pentiti più di tanto effettivamente non hanno raccontato ci sono 600 affiliati secondo questa ricostruzione che fa il Corriere della Sera e appunto può aprire la cassa di un immenso tesoro conosce molte cose che contano ancora questa l'opinione di Roberti che quando parla di tesoro specifica che ovviamente si parla anche di tesoro immobiliare e non solo di soldi. Dopodiché vi dicevo c'è questo intervento di Roberto Seviano anche lui dice ha deciso di abdicare ma forse non svelerà le cose più importanti è stato un re spietato e calcolatore sa che l'unico modo per uscire inizia dalla prima pagina l'intervento di Roberto Seviano che così scriveva così scrive avevo 19 anni era pieno luglio calò un clima di paura e ansia a casa di principe in tutta la provincia casertana il re del clan Francesco Schiavone era stato preso e da lì poi nasce appunto anche il suo libro e anche la fine della libertà anche di Saviano perché da lì poi venne messo sotto scorta e sotto protezione ma leggiamo ancora qualche riga dell'articolo sul Corriere era il 1998 a nessuno sembrò una fine ma solo un avvicendamento di potere infatti fu così che rimase re anche in carcere in questi quasi tre decenni re fino a oggi 26 anni sono passati da quel giorno perché solo ora decide di parlare la risposta è una schiavone vicino a scontare la totalità della pena ma sa che se non si pente non uscirà mai fra l'altro il Corriere della Sera svela che è stata messa in giro la voce era stata messa in giro la voce che potesse anche lui come Matteo Messina Denaro avere un tumore in realtà non è così ma per l'appunto ci sono ci sono altre questioni da raccontare anche Repubblica abbiamo visto da molto molto risalto a questo arresto e vi dicevo ci sono anche qui due interviste che vale la pena di sottolineare una a Federico Caffiero Derao procuratore nazionale antimafia fino al 2022 adesso sapete è eletto deputato con il Movimento 5 Stelle anche lui era lì negli anni della carriera criminale di Sandokan così era soprannominato e dice racconta Dario del Porto dice era una stagione di profonde collusioni e omertà vero sicuramente risponde Derao le modalità terroristiche con le quali il clan si muoveva sul territorio rendevano molto difficile per i cittadini esporsi con denunce aperte esistevano anche rapporti di complicità con la politica basti pensare che il 13 dicembre del 90 fu interrotto a Casal di Principe un vertice di camorra che stava che si stava svolgendo in casa di un assessore comunale però dice esistevano anche personalità che si opponevano come Don Giuseppe Diana insomma c'è chi si aspetta rivelazioni diciamo così da un punto di vista politico c'è chi abbiamo visto vuole notizie su quello che era il patrimonio intanto però appunto anche a Caffiero Derao viene chiesto se ha senso una collaborazione con la giustizia di Schiavone lui risponde assolutamente sì anzi può essere indubbiamente molto rilevante Francesco Schiavone è colui che conosce i segreti del clan da quando operava con Antonio Bardellino il fondatore della Cosca sparito nel nulla secondo le sentenze assassinato in Brasile poi in tutti gli anni a seguire conosce i nomi di chi ha fatto parte della rete di imprenditori che hanno stretto accordi e affari e sa dove è nascosta la cassaforte del clan vi dicevo a proposito diciamo così di una definizione anche dell'attività criminale di Sandokan Lirio Abbate altro giornalista che molto ha seguito queste vicende dice lui Schiavone si definisce un mafioso e non un camorrista perché è stato punciuto ossia affiliato con l'antico rito della mafia e la sua mentalità criminale influenzata dalla vecchia amicizia con gli uomini di Cosa Nostra lo ha portato non solo a essere violento allo stesso tempo stratega politico e imprenditore della malavita mostra adesso apertamente la sua mafiosità perché vuole elevarsi rispetto agli altri criminali campani non si vuole definire camorrista anche se Sandokan non ha bisogno davanti ai magistrati di elencare il suo pedigree insomma la mafia vale ancora più della camorra così ci racconta questa intervista che troviamo su Repubblica mentre invece vi dicevo sul giornale c'è un'interpretazione completamente diversa dobbiamo intanto andare a pagina 18 quindi la foliazione è molto avanti segno che non viene dato grande risalto a questa vicenda anche se in realtà c'è un richiamo in prima pagina e vi dedica diciamo così un lungo fondo Filippo Facci che parla però di Saviano Saviano finisce in testa coda anche sull'ergastolo stativo cioè prende a pretesto questo arresto per attaccare Saviano e le dichiarazioni fatte da Saviano sull'ergastolo stativo che in effetti per come vengono presentate da Filippo Facci sembrano un po' in contraddizione l'una con l'altra ma per tornare invece alla questione di Francesco Schiavone il pezzo di Luca Fazzo così viene titolato il camorrista che si è fatto da sé ma avrà ben poco da svelare anziano malato sepolto dagli ergastoli decide di confessare fuori tempo massimo già i suoi figli hanno cantato prima di lui perché come già ci raccontavano anche gli altri quotidiani almeno altri tre elementi della famiglia di Schiavone si sono messi a disposizione degli inquirenti la caduta di Gomorra anche il tempo sceglie di dare invece molto risalto a questo a questo arresto con un'intervista a Don Patriciello come sapete il parroco della terra dei fuochi che ovviamente si augura che sveli i rapporti fra politica e clan e dice la sua però è una collaborazione di calcolo sono le 7 10 andiamo oggi rapidamente in pubblicità perché poi abbiamo invece tantissime altre cose da vedere le 7 e 15 riprendiamo la nostra edicola ancora con la prima pagina del Corriere della Sera dicevamo l'articolo taglio centrale riguardava l'arresto del scusate il pentimento del di Francesco Schiavone ma in realtà c'è un titolo che ci colpisce comunque sempre sulla prima pagina e riguarda la guerra in Ucraina perché vede un nostro coinvolgimento Ucraina cresce la tensione ai confini della Nato scrive il Corriere della Sera i caccia italiani intercettano jet russi sul Baltico si parla appunto di questo clima teso ai confini della Nato e soprattutto di questa vicenda nelle ultime 24 ore i jet dell'aeronautica italiana partiti dalla base polacca di Malbork hanno effettuato una doppia intercettazione di aerei russi sul mar Baltico mentre in Ucraina oltre 100 tramissili e droni russi sono tornati a colpire soprattutto i sistemi di produzione e distribuzione dell'energia insomma lì si fa stare al freddo questa vicenda della diciamo così questa non possiamo definirla una battaglia nei cieli ma insomma qualcosa che gli va molto vicino viene raccontata da diversi quotidiani Lorenzo Cremonesi l'inviato a Kiev firma l'articolo gli Eurofighter italiani intercettano appunto due caccia russi sul mar Baltico e si indaga anche dice Cremonesi sui rottami di un veicolo ritrovati vicino al confine con Bucarest e la cosa ma questa è diciamo così la cronaca che vi ha raccontato come sapete anche il telegiornale in più sul Corriere della Sera invece forse vale la pena di leggersi questo scenario disegnato da Giuseppe Sarcina i 300.000 uomini dispiegati sul fianco est dell'Europa quanto rischia la Nato e come si può difendere quindi ribaltando quella che era diciamo così una racconto una narrazione ormai si dice così dei giorni scorsi su alcuni quotidiani in cui era invece la Nato che stava minacciando la Russia questa mappa che vedete a centro pagina siamo a pagina 7 del Corriere della Sera ci aiuta a capire qual è il dispiegamento di queste forze tenendo conto fra l'altro come sapete che c'è in corso questa grande esercitazione che forse qualcuno può definire anche inopportuna in questo momento ma che muove per l'appunto tutta una serie di forze su questo scenario di guerra anche sulla stampa troviamo ben raccontata questa vicenda i getti italiani nel Baltico intercettano aerei russi scrive così la stampa che dedica moltissima attenzione a questo tema intanto la foliazione proprio quella iniziale pagina 2 e pagina 3 ma io ve la voglio segnalare perché sulla stampa fra l'altro viene evidenziata una notizia che ieri aveva in anteprima il quotidiano nazionale ed è stata colpa mia che non ve l'ho fatta vedere me l'ero messa da parte poi me la sono dimenticata per la fretta e quindi oggi si rende merito al quotidiano nazionale ma si torna appunto con questa notizia sulla stampa trame russe a Bruxelles scandalo al Parlamento europeo scrive la stampa Marco Bresolin eurodeputati pagati per diffondere propaganda pro Cremlino nel mirino politici di sei paesi dietro l'operazione ci sarebbe l'oligarca Viktor Medvedchuk che probabilmente ricorderete scrive infatti la stampa era un oligarca ucraino ma vicino a Putin evaso dai domiciliari era appunto agli arresti in Ucraina in concomitanza con l'invasione russa del febbraio del 2022 poi viene di nuovo arrestato dagli uomini di Zelensky e successivamente consegnato a Mosca in cambio della liberazione di alcuni prigionieri ucraini che cosa avrebbe fatto questo signore ha finanziato questo canale informativo Voice of Europe la voce dell'Europa e in particolare alcuni politici di cui però dice la stampa non sono stati resi noti i nomi ma si tratterebbe di eurodeputati di sei paesi Germania, Francia, Polonia, Paesi Bassi, Belgio e Ungheria l'unico partito menzionato esplicitamente dai media ciechi perché è da lì che è partito insieme a quelli tedeschi sono i tedeschi appunto della AfD, Alternative for Deutschland, il partito di destra detto questo prendo oggi invece il quotidiano nazionale perché si parla anche di armamenti abbiamo visto i nostri jet che intercettano quelli russi c'è un'intervista su quotidiano nazionale quindi nazione il resto del Carlino e giorno a Lorenzo Cingolani ve lo ricorderete Roberto scusate Roberto Cingolani era stato ministro della transizione ecologica con il governo Draghi adesso è amministratore delegato di Leonardo Leonardo che è probabilmente la società più importante che abbiamo in Italia proprio per la produzione di armi lo intervista la direttrice Agnese Pini che parte chiedendogli se lui è davvero convinto che se vogliamo la pace dobbiamo preparare la guerra e la risposta è non raccontiamoci che si possa davvero trattare con chi non tratta parlare di regole con chi le regole le calpesta usare il dialogo con chi invece usa la violenza dell'invasore e poi ancora a proposito degli attacchi militari della Russia in realtà dice di temere moltissimo anche gli attacchi informatici ma quello che a noi interessa per l'appunto è vedere la questione della produzione delle armi dice Cingolani oggi partecipiamo a due consorzi il primo MBDA vede Leonardo insieme a Airbus e B-System è l'unico esempio di consorzio europeo transnazionale che produce sistemi di difesa e missili e poi c'è Eurofighter ma sulla domanda se c'è qualche cosa di nuovo sulla possibilità di avviare un percorso di difesa comune quindi un esercito comune lui dice siamo immobili mentre intanto la guerra continua a devastare l'Ucraina e rischia di allargarsi perché ve l'ho fatta vedere questa intervista? perché fra l'altro c'è sulla prima pagina del Fatto Quotidiano un attacco diretto proprio a Leonardo droni e robot Leonardo paga e arma le università così scrive il quotidiano diretto da Travaglio che parla di questa ricerca il colosso della difesa dice ha investito 2 miliardi e 2 nel 2023 4 e 5 sono le pagine dedicate a questa vicenda si parla di accordi con decine di Atenei e quindi delle successive proteste di studenti e docenti con un'intervista a Michele Lancione docente di geografia ed economia politica al Politecnico di Torino che dice accettando queste partnership si perde la libertà di sentire e allora a proposito di università apriamo come si dice facciamo un piccolo link andiamo di nuovo sulla stampa perché il titolo di apertura della stampa è un titolo un po' particolare nel senso che insomma di solito questi temi li ritroviamo più all'interno invece no la stampa ci apre la resa della normale Israele stop ai bandi anche la normale di Pisa per l'appunto scuola fondata da Napoleone nel 1810 scrive la stampa si accoda alla lista di Atenei che chiedono di rivedere il bando di collaborazione scientifica fra Italia e Israele siamo a pagina 11 eccolo qua con fra l'altro un interessante e secondo me anche molto corretto intervento di Giovanni Orsina che dice il paradosso delle università se la morale supera il pluralismo ovvero gli Atenei corrono il rischio di abdicare al proprio compito formativo primario agli studenti infatti serve uno spazio dove il confronto sia regolato argomentato e costruttivo insomma se c'è un posto dove bisognerebbe che trovassero spazio tutte le opinioni è proprio quello accademico e invece si va avanti a forza di boicottaggi lo dice molto bene anche il giornale che a questa vicenda dà altrettanto risalto tant'è che c'è un richiamo in prima pagina ma soprattutto ecco qua siamo fra pagina 16 e pagina 17 quindi ben due pagine viene riportata anche la dichiarazione della ministra dell'università Bernini che parla di una scelta sbagliata e soprattutto la storia di uno studente ebreo che ha fatto causa all'Ateneo di Harvard quindi l'Ateneo del Massachusetts dice noi discriminati a causa dell'identità religiosa terrificanti le scene di giubilo il 7 di ottobre dice ho visto molti studenti festeggiare nessuno è stato punito se cade Israele poi toccherà all'Occidente questa è la tragica previsione di questo ragazzo andiamo avanti perché questo ci porta ovviamente a parlare anche di politica inevitabilmente ma prima però ancora due segnalazioni scusate che hanno a che fare con diciamo così gli esteri le notizie che arrivano dagli esteri una una è proprio solo una vignetta ogni tanto ci possiamo concedere anche un piccolo sorriso pur nella tragedia e tenendo presente che stiamo parlando di una vicenda che ha fatto più di 140 morti ma LK mostra così questo omino dell'Isis che si rivolge allo psichiatra e sapete che c'è stata la quinta rivendicazione dello Stato Islamico per l'attacco appunto alla sala la sala concerti a Mosca e questa signora la dottoressa dice dopo quante rivendicazioni ha avuto la sensazione di essere ignorato insomma non sanno più come fare quelli dell'Isis a dire che sono stati loro e a proposito di Isis come vedete non sono gli unici cioè non solo i russi li ignorano ma in realtà li ignorano anche i talebani che non sono l'Isis appunto sono un'altra cosa i talebani non che siano meglio ma insomma ce lo racconta sul foglio sulla prima pagina del foglio Cecilia Sala da domani lapidazioni le dittature imperialiste o islamiste e le vittime di comodo che cosa succede? succede che i talebani in Afghanistan dice Cecilia Sala hanno adottato una strategia non troppo diversa in linea di principio ma in salsa fondamentalista invece che imperialista rispetto a quella vista appunto a Mosca visto che non sono capaci i talebani sottinteso di contenere l'Isis K come pure avevano giurato di saper fare si scelgono anche loro vittime di comodo dopo l'attentato alla periferia di Mosca le televisioni afghane hanno trasmesso un messaggio audio del leader supremo talebano il mullah ibatullah unzada che annunciava da domani ricominceremo a lapidare le donne adultere in pubblico come se il problema degli afghani fossero i presunti tradimenti coniugali e non le bombe dello stato islamico che ammazzano civili nelle moschee sugli autobus e nelle scuole questo purtroppo è la realtà alla fine ci vanno sempre di mezzo le donne vi dicevo dobbiamo anche dedicare un po' di attenzione alla politica oggi non possiamo ignorarla se non altro con un paio di segnalazioni uno sul Corriere della Sera ancora si racconta dello psicodramma delle candidature soprattutto a sinistra soprattutto nel Partito Democratico ma anche di quello che sta succedendo nel campo come dire della alleanza di centro e quindi Maria Teresa Melli intervista Matteo Renzi che dice con Bonino storie diverse ma con la nostra lista gli europeisti conteranno molto di più e a proposito di Calenda lui che sapete non c'è stato in questa alleanza lui dice se azione però vuole starci porte aperte senza veti se non vuole auguri mi occupo di politica non di rancori personali qualcosa di simile la troviamo anche sulla Repubblica mentre sul riformista scusate l'avevo lasciato sotto che ci arrivo al volo eccolo qua c'è un'intervista in esclusiva a Carlo Cottarelli che doveva candidarsi per l'appunto con questa lista di scopo ma invece decide di fare un passo indietro e dice è un'occasione persa sprecata per i personalismi oltre al riformista come vedete vi faccio vedere anche la prima pagina del manifesto che ritorna sulla questione stranieri educazione cinica ma la vera questione oggi che insomma ci riporta agli stranieri e ci fa chiudere il cerchio eccola qua avvenire ridotti ai minimi sapete che il numero dei nati continua a calare e però scrive avvenire molte scuole sono aperte solo grazie agli stranieri negli ultimi anni ne sono state chiuse 1162 ma gli unici a crescere sono appunto gli immigrati e dunque gli insegnanti ma non solo dovrebbero ringraziarli parla della scuola dell'odio libero ma in realtà si riferisce alle polemiche su Canfora ritorna il messaggero a parlare di scuola per l'appunto anche il messaggero titola meno nascite Italia in affanno il messaggero che ieri ci aveva dato la notizia di una legge in preparazione su questo 20% massimo di stranieri per classi che non aveva molto senso infatti viene aggiustato il tiro la legge varrà solo per chi non parla italiano probabilmente non avrà senso comunque ma almeno questa contraddizione viene risolta c'è Caterina Bizzarri questa mattina con noi per fare il telegiornale le do subito la linea buongiorno Caterina buongiorno a te Flavia dunque il telegiornale partirà dagli esteri dalle tensioni alle confine con la Nato dopo che nelle ultime 24 ore due caccia dell'aeronautica militare italiana hanno intercettato caccia russi sul mare baltico oggi il presidente del comitato militare dell'alleanza pur invitando tutti i membri a prepararsi ad una futura escalation comunque esclude minacce imminente poi parleremo anche dell'intervista che il presidente ucraino ha rilasciato al Washington Post sui finanziamenti all'Ucraina e poi c'è la politica con tutte le fibrillazioni i movimenti dei partiti politici in vista delle prossime elezioni europee con il centrosinistra che vorrebbe candidare l'area sales e detenuta in ingueria parleremo del pentinamento di Francesco Schiavone e del Papa che ieri non era alla via Crucis vi aspettiamo con il telegiornale adesso do la linea a Paolo sotto corona con le notizie del medio sì grazie buongiorno questa è la situazione di oggi il peggioramento che interessa soprattutto direi le zone di nord-ovest sia con piogge moderate il colore azzurro sul nord-ovest dobbiamo inserire anche l'alta Toscana in realtà sia la parte fra Piemonte Valle d'Aosta Alta Lombardia parte del Trentino anche del Veneto in cui compaiono le zone in giallo significa precipitazioni particolarmente abbondanti molto forti siamo in zona alpina e prealpina in pianura le cose vanno un po' meglio non dico schiarite ma magari piove di meno in qualche momento magari nemmeno piove sul resto del centro e al sud qualche nuvola giornata di domani e siamo a domenica qui c'è il peggioramento forte quello che ci si aspettava in questo in questo periodo quindi fra domenica e lunedì in realtà il peggioramento forte che prende vedete la parte più occidentale è Liguria di Ponente ma poi c'è anche sulla costa azzurra poi tutta questa parte che prende Valle d'Aosta Piemonte parte settentrionale Lombardia Trentino Veneto un po' meno il Friuli Venezia Giulia però vedete dove vedete il colore fra il giallo e il rosso significa che lì il maltempo è molto forte più debole via via che ci si sposta al centro diciamo grigia giornata grigia qualche debole pioggia e al sud anche ancora meno quindi è un po' a scala arriviamo alla giornata di lunedì in cui confermato quello che abbiamo visto anche ieri il peggioramento si sposta e dà già qualche schiarita sulle zone di nord ovest quindi lì era previsto maltempo in realtà riesce a passare magari non la mattina sicuramente in giornata i fenomeni più intensi si spostano sulla parte centro-orientale del nord e poi ancora Liguria non solo di Levanti in realtà alta Toscana e qualche pioggia moderata arriva anche al centro debole o moderata magari moderata sulle zone dell'Appennino al sud qualche debolissima pioggia ma lì la situazione è decisamente più stabile vediamo i valori delle temperature minime di questa mattina piuttosto elevate perché vedete che il colore giallo anche in qualche caso carico cioè non siamo di poco sopra i 10 gradi siamo anche oltre i 14 15 o 16 per effetto del vento quindi situazione relativamente calda e chiudiamo con lo stato dei mari che sono comunque da mossi a molto mossi un po' tutti poi abbiamo il canale d'Otranto agitato abbiamo il mar Ligure agitato qui i venti sono da sud ovest e quindi con questa situazione di tempo ovviamente di movimento ce n'è e i mari seguono se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale da più tardi ciao 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 ciao